Good morning, anche se direi buonasera perché sono le 4.20 qui Mister, Master, Maestro Oh semplicemente, oh semplicemente David It's January 16, 2022, and it's Sunday here in Naples 58 Fahrenheit, around 14 Celsius This means that non è quella giornata veramente, 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 veramente fredda con questi giorni in questo periodo infatti comunque ci sono 4-5 gradi in più, bene così però come da routine invito sempre a vedere il mio video sul freddo per capire perché non lo soffro come gli altri comunque per il fatto che utilizzo due pratiche da qualche anno che mi consentono in qualche modo di combatterlo certo non di vincerlo, come dico sempre perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo per quanto riguarda i video sui pensieri come all'inizio anno lo separo da questo credo lo caricherò più tardi si tratta della seconda parte dei pensieri di questi giorni se qualcuno ha seguito i miei report, insomma, in commenti anche ai report del maestro David Lynch sa più o meno di questi due video quindi la seconda parte, quest'altro video sui pensieri credo lo caricherò più tardi non so se prima o dopo del report comunque credo che lo caricherò vediamo un po', al massimo domani poi sì, e qui volevo solo ringraziarla per questo giorno 2 i weekend projects il fanwork train bellissima espressione altra espressione cult, bellissima quindi la ringrazio per questo giorno 2 i weekend projects e ricambio anche la fortuna per i suoi progetti così come a tutti i progetti tutti quanti gli altri se ce li hanno che lo carico e anche da quest'altra bellissima inquadratura e credo per l'ottava volta nel mese we have, we have those beautiful blue skies really blue, bellissimi cieli azzurri and golden golden, really golden sunshine and I think all along the way along the way ovviamente fino a raggiungere la serata c'è tra un'ora credo anche meno bene, nulla da dire in questi casi perfetto così speriamo si continui con questo trend domani con il terzo giorno consecutivo say this so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's green roller shooter behind me on the top or in the the shot intanto bellissimo il cielo veramente dietro di me o sopra di me and finally from my mythical keyboard di amadi gx 640 ipg ipg 625 have a great day him all the people follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti mi raccomando il video i pensieri eventualmente separato sempre da questo so again have a great day him all these people and everyone too and all these people